Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo con la cronaca, assolto per incapacità di intendere e di volere il 47enne che uccise la madre a Calbenzano. L'udienza si è tenuta questa mattina presso il tribunale di Arezzo. Sentiamo. E' stato giudicato incapace di intendere e volere al momento del fatto e per questo la sentenza della Corte di Assise di Arezzo è stata di assoluzione. Questa mattina si è concluso così il processo a carico di Manuele Andreini, il 47enne che nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2022 a Calbenzano uccise la madre soffocandola con un cuscino. Fu lì stesso poi a chiamare il 112, venite ho ammazzato mia madre. Il 47enne era stato sottoposto nei mesi scorsi anche ad una perizia psichiatrica che ne aveva accertato il vizio di mente. La PM Francesca Eva, alla luce della non imputabilità dell'uomo, aveva così chiesto la soluzione e una messa in sicurezza in una struttura adeguata. La Corte di Assise ha disposto per Andreini adesso la libertà vigilata in una struttura dove settimanalmente verrà visitato e valutato dai medici. Per lui si apriranno le porte di una REMS, una residenza per le misure di sicurezza. Le sorelle di Manuele e Andreini si erano costituite parte civile nel processo. Un segno di rispetto per la memoria della mamma aveva precisato il legale delle donne. Ed è stato chiuso il noto locale dolce salato di piazza Risorgimento ad Arezzo, un noto punto di ritrovo per generazioni di giovani aretini. Negli ultimi anni è passato frequentemente di mano. L'apertura dell'ultima gestione in ordine di tempo però è durata soltanto qualche mese dallo scorso autunno ad oggi. L'attività, secondo il personale della Polizia Municipale di Arezzo, che ha effettuato il sopraluogo, sarebbe stata abusiva, priva della necessaria documentazione per poter esercitare la somministrazione di alimenti e di bevande. Quindi i titolari non avrebbero presentato la scia, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, esercitando quindi l'attività in maniera abusiva. E così, a seguito di rilievi effettuati dal comando della Polizia Municipale di Arezzo, è stata elevata una multa da 5 mila euro alla ditta che gestisce il bar e successivamente è stata disposta la chiusura dell'esercizio fino a quando non ci saranno i necessari titoli abitativi ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande. Per la quarta volta dall'inizio dell'anno, nello stesso supermarket di Sansepolcro, in prossimità dello svincolo della E45, i carabinieri biturgenzi hanno arrestato due uomini che ripetutamente saccheggiano grandi imbagazzini della zona, sfruttando l'assenza di caselli autostradali e scarsità di telecamere. Chiara Sadotti Partivano da Napoli per arrivare in Valtiberina e rubare in un supermercato della zona, nei pressi della E45. È successo per ben quattro volte da inizio 2023, ma adesso due uomini sono stati scoperti ed arrestati di nuovo dai carabinieri di Sansepolcro. La tecnica ormai consolidata è quella già utilizzata in tutti gli altri episodi, usare buste artigianalmente modificate per superare i sistemi antitaccheggio infilate sotto ai giubbotti. Una volta riempite di merce costosa, soprattutto alcolici e prodotti per la cosmesi personale, i due si alternano in ingresso e in uscita, svuotando tutto nella macchina con la quale viaggiano. Questa volta però hanno anche inserito una variante nel cosiddetto modus operandi. avevano con loro infatti delle calamite così potenti da riuscire a disattivare i dispositivi magnetici applicati alla merce. Dopo essere stati arrestati sempre dai carabinieri di Sansepolcro, in seguito alla convalida dell'arresto del Tribunale di Arezzo, nei mesi scorsi erano stati rilasciati per fargli fare il ritorno nella metropoli partenopea, ma ieri sono tornati alla carica ritentando il quarto colpo e per loro così sono di nuovo scattate le manette. L'ipotesi investigativa più accreditata è che ci sia un mercato illegale parallelo, dove la banda dedita a questo tipo di furti rimette in vendita prodotti rubati. Le indagini dei carabinieri adesso proseguono su questa pista. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, interviene stizzito dopo le parole pronunciate dal sindaco di Arezzo, Aglessandro Ghinelli, riguardo la collocazione della stazione dell'alta velocità Medio Etruria, che secondo il primo cittadino Aretino è rigutino e non va messa in discussione il servizio. È trascorso più di un anno dal grande convegno sulla stazione Medio Etruria, che si tenne a Cortona nella Sala Sant'Agostino, peraltro veramente ricca di interventi di persone. Il convegno era stato richiesto e voluto dai comuni di Foiano, Castio, Ferentino e Cortona, guarda caso i comuni che sono insieme al piano strutturale intercomunale. Tuttavia ad oggi continuano ad uscire informazioni che non fanno bene, a mio avviso, al territorio, perché di una cosa sono certo, che l'amministrazione comunale di Cortona è e appoggerà la stazione Medio Etruria laddove venga proposta, quindi non da noi ma da un tavolo tecnico, quindi che sia Rigutino che sia Cortona. Se noi non poniamo veti agli altri, non vorremmo neanche che i stessi vengano posti su Cortona, quindi su Creti. Non è difficile leggere tra le righe di questa dichiarazione del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, una certa stizza, per quanto affermato dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, in tema Medio Etruria. Per questa amministrazione comunale, scriveva Ghinelli nel suo profilo pubblico, non c'è storia, la migliore collocazione per la stazione ad alta velocità è Rigutino. Con il ministro Matteo Salvini c'è un filo diretto, prosegue Ghinelli. Dal giorno dopo il suo insediamento gli ho suggerito di non dare una lettura politica della questione, ma che siano i tecnici del Ministero a gestirla. Sul tema ci sono prese di posizioni forti della regione Umbria, sulla soluzione in località Creti non registro altrettanta fermezza, come sarebbe necessario da parte della presidenza regionale toscana su Rigutino. Inutile dire che il sindaco di Cortona è di parere contrario. Io credo e ritengo, se mi fosse posta questa domanda, che Rigutino creerebbe non solo problemi alla viabilità sull'SR 71, c'è una strada compromessa perché è distante dalle vie di grande comunicazione autostrada e non c'è una superstrada. Mentre invece la zona di Vagnotti-Cortona o Creti addirittura è molto vicina, per poche centinaia di metri, alla Quattro Corzie-Perrucia-Bettolle, ma è anche vicina all'autostrada, quindi al casello Valditiana. Quindi sarebbe molto più fruibile e molto più diretta la comunicazione. Ma questo lo lascio decidere evidentemente ai tecnici che porteranno, mi auguro, avanti il progetto. Dire che la stazione va costruita dove c'è ferro su ferro, ecco, anche questa è una sciocchezza, mi avviso, perché voi immaginate fare una stazione perché insiste ferro su ferro. Allora, io sono un cittadino di Perugia, devo andare a Milano, prendo il treno da Perugia per venire ferro su ferro a Rigutino e salire sul Frecciarossa. Il tempo che perdo da Perugia e perdere da Perugia verso Rigutino equivale alla tratta da Rigutino a Milano con il treno Frecciarossa. Quindi è un qualcosa che non sta in piedi. Ferro su ferro non c'entra niente. Scito due casi. Afragola, stazione in linea. Meglio Padana, Reggio Emilia, stazione in linea e non è ferro su ferro. E sono progetti che stanno davvero dando grandi soddisfazioni ai territori che poc'anzi ho citato. Quindi rimaniamo del fatto come cortonesi di essere favorevoli alla stazione sulla provincia di Arezzo. Se i tecnici dimostreranno che sarà meglio Rigutino, accetteremo di buon grado Rigutino. Se diranno che è meglio Creti, non vogliamo Veti Aretini su Creti perché evidentemente credi anche più baricentrica quello che è Siena e Perugia. Aspettiamo con ansia e soprattutto saremo disponibili ad offrire un nostro contributo. Cambiamo argomento. I castori del Tevere vanno rimossi. Il governo guidato dalla Presidente Giorgia Meloni si è espresso sul tema del ritorno del castore in centro Italia a 500 anni dall'estinzione. lo ha fatto per bocca del sottosegretario all'ambiente Claudio Barbaro che in Commissione Ambiente alla Camera ha detto serve un'azione coordinata di rimozione. Un gruppo di ricercatori toscani nel 2021 ha documentato il clamoroso ritorno dell'animale in Umbria e in Toscana in particolare seguendo la colonia retina che si sta sviluppando lungo il corso del fiume Tevere. non solo nel comune di Sansepolcro nei mesi seguenti è stata scoperta la prima diga della zona realizzata da questi animali. L'arrivo del castoro euroasiatico comparso in Italia centrale risulta attribuibile a emissioni di natura illegale in quanto non autorizzate dall'autorità competenti e non adeguatamente pianificate ovvero non riconducibile a un processo di ricolonizzazione naturale né a progetti di reintroduzione condotti come previsto dalle norme vigenti in materia. E rimaniamo in tema di animali in questo caso un'invasione se ne è parlato molto in queste ultime settimane quella riguardante la presenza del lupo nel nostro territorio Presidente di Federa Agripesca Conf Cooperative Ritano Baragli si pronuncia ai nostri microfoni riguardo alla situazione della presenza del lupo nel nostro territorio. Grazie a Settimelli. È un problema naturalmente che sta prendendo campo nel momento in cui il lupo che è diventato un abitante abbastanza frequente si incontra nei boschi e non solo basta vedere le passeggiate che questi animali ormai anche questa specie noi riteniamo da agricoltori che è fuori controllo e quindi si stanno tra l'altro avvicinando anche ai luoghi dove trovano più facilmente cibo e quando mi riferisco al lupo non è che mangia l'erba di solito è un carnivoro e quindi mangia gli animali che trova noi da agricoltori vogliamo bene agli animali in generale però quando le specie sono sotto controllo e anche il lupo è un problema noi non abbiamo creato almeno io abito a Gambarsi Terme quindi in provincia di Firenze Montesperto è la sede della cooperativa di cui sono presidente oltre a essere vicepresidente che da Agripesca e quindi vediamo e ci vengono sempre più segnalati questi problemi anche dai cacciatori che con le videotrappole immortalano questi lupi che tranquillamente diciamo si circolano su questi territori e non sono solo i boschi come è accaduto per gli ungulati lei pensa che per questo tipo di animale insomma si possa arrivare ecco ad una soluzione o è più complicato indubbiamente indubbiamente è un pochino più complicato perché le forze di polizia i carabinieri o altre forze di polizia debbano nel momento in cui ripeto tutti i giorni ci sanno questi abbiamo questi avvistamenti di intervenire e cercare di rimediare si possono anche catturare naturalmente si può sparare al lupo con diciamo sì per addormentarlo e portarlo via e metterlo e quello e chiediamo anche per gli ungulati in generale se lo vogliamo portiamoli i numeri eccessivi che ci sono in un parco recintato perché qual è il problema anche che ha scatenato questa crescita esponenziale delle specie dei caprioli e dei cinghiali o ancora di animali sempre di taglie molto più grandi che sono scappati da queste oasi quindi che devono essere ben controllate ben tutelate e portati lì naturalmente questa è un'operazione che costerà noi ripeto nessuno vorrebbe andare a sparare al lupo per toglierlo di mezzo però denunciamo che questa anche questa specie sta uscendo dai canoni di quelli che sono numeri accettabili ed il consorzio di bonifica alto valdarno ha incontrato la senatrice simona petrucci per aggiornarla sulla situazione degli interventi da attuare in materia di rete idrica del nostro territorio e le relative criticità sentiamo noi abbiamo un territorio quello della valdichiana aretina essenese e direi anche quello della valtiberina che chiede acqua che ha bisogno di acqua e poi abbiamo dall'altra parte la diga di monte d'olio che anzi proprio in quest'anno raggiunge il suo massimo capacità di invaso abbiamo la rete di distribuazione primaria ma mancano i distretti mancano i distretti irrigui la diga di monte d'olio con i suoi 140 milioni di metri cubi di acqua rappresenta l'invaso più importante dell'italia centrale eppure la sua acqua non arriva alle coltivazioni del territorio ormai da anni infatti mancano le reti per consegnare le risorse alle aziende agricole che restano così all'asciutto e a causa siccità fanno fatica a continuare a produrre e a rimanere sul mercato una problematica illustrata dal consorzio di bonifica alla senatrice Simona Petrucci oggi abbiamo nel dettaglio parlato insieme alla senatrice per capire quali sono le possibilità per questo ente per riuscire a fare le progettazioni ma anche per riuscire a farsene finanziare per poter realizzare questi interventi oggi oggi il problema il problema principale per i nostri territori è diventata la risorsa una risorsa che abbiamo che il territorio aretino ha ma che purtroppo non riesce a sfruttare per la mancanza di condotte e di infrastrutture io qui sono la rappresentante sono il senatore del territorio aretino e mi farò carico assolutamente delle istanze che oggi mi sono state presentate e cercherò di portarle nelle sedi opportune affinché abbiano finalmente una esecutività e andiamo a parlare di questo nostro weekend aretino con la fiera antiquaria la edizione d'aprile che si è appena aperta e in questa circostanza ci sarà uno spazio dedicato al vintage la sala di fraternita il giardino pensi della provincia ospiteranno Arezzo selezione vintage Edoardo Carrai Fiera Antiquaria e giornate nazionali delle case dei personaggi illustri Arezzo ospita un fine settimana denso di iniziative la casa museo di Ivan Bruschi che fa parte delle case della memoria propone infatti un ingresso gratuito per domenica 2 aprile una fiera antiquaria quella di aprile che già vede molti visitatori attratti anche dal vintage siamo di nuovo con la sala di fraternita con una nuova edizione del vintage e al giardino pensile della provincia due location per appunto questa manifestazione Arezzo selezione vintage che ormai si svolge da cinque anni addirittura ora si fa una scennita tra un vintage popolare e un vintage importante sì sì noi cerchiamo di fare attraverso i nostri operatori una selezione proprio sul vintage quello diciamo di rilievo e quello più semplice che può essere anche sfociare sull'usato un po' anche il mondo del vintage è sempre ricercato e ci sono diversi appassionati del settore che vengono a fare ricerche nel vintage la qualità è assicurata perché la particolarità di questi capi è proprio la scelta dei materiali le rifiniture che oggigiorno è molto difficile trovarli il cotone le lane sono fatte di una prelibatezza che è difficile veramente nel pronto modo a trovare una qualità del genere e poi sono pezzi unici si celebrerà domani 2 aprile la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo ad Arezzo si celebrerà questa giornata al teatro Petrarca con il concerto di Paolo Fresu e Daniele Buonaventura è sempre una sfida a volte anche molto faticosa a crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il mondo delle disabilità queste sono le parole pronunciate da Andrea Laurenzi presidente dell'associazione Autismo Arezzo in occasione di questa giornata speciale dedicata all'autismo ed il prossimo 7 aprile venerdì santo a partire dalle ore 21 e 15 tornerà la via Crucis con la passione di Gesù a Santa Firmina tanti figuranti che partecipano come ogni anno e tante le persone e le famiglie che si richieranno a Santa Firmina come in altre località dove sarà rievocata dal vivo la passione di Cristo in occasione del prossimo Triduo Pasquale e andiamo a parlare di un concerto speciale un concerto per ricordare le piccole vittime del recente terremoto in Turchia e Siria Chiara Salotti noi cerchiamo con la nostra voce di portare qualcosa di importante a questi bambini che in questo momento hanno veramente tanto bisogno per festeggiare la Pasqua l'associazione Voce in Canto ha deciso di dedicare la propria musica alle bambine ai bambini colpiti dal terremoto che lo scorso 6 febbraio ha devastato Siria e Turchia perché la musica è vita la musica è uno dei diritti che i bambini dovrebbero avere e purtroppo non in tutte le parti del mondo riescono ad avere però quelle note musicali sono quel suono dolce che ci invita a tutti a considerare tutti i bimbi del mondo con gli stessi diritti ed essere tutti uguali nella chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo il concerto solidale è realizzato con Unicef Italia una melodia per Siria e Turchia diretto dal maestro Gianna Iori per il diritto di questi bambini sfortunatissimi e dobbiamo ringraziare Gianna Iori il suo coro che mettono la bellezza della musica al servizio di chi ne ha bisogno ad aprire la serata i giovani pluripremiati del coro giovanile voce in canto spazio poi al coro degli adulti cantori di vita noi abbiamo il piacere di essere da tanti anni ormai amici Unicef fin da quando eravamo un coro veramente neonato e quindi per noi è veramente un gran piacere insomma poter continuare questa amicizia vera questa amicizia con la maiuscola per aiutare veramente chi ha bisogno noi doniamo la nostra voce il nostro impegno proprio per gli altri perché quello che noi vogliamo dare è sempre speranza ci deve essere sempre speranza andiamo alla pagina sportiva con la bella vittoria dell'Arezzo che ormai non si ferma più vince ancora e vola temporaneamente a più dieci dalla seconda la pianese che sarà impegnata domani a Livorno è l'ottavo successo consecutivo per gli Amaranto è festa grande e strameritate si è giocato sul campo neutro di Poggi Bonzi a porte chiuse e pensare che la partita si era anche messa male con il gol dell'ex Bruni a fine del primo tempo che aveva portato in vantaggio il grossetto e gelato le aspettative retine indiani schierava il solito 4-3-3 con Cantisani all'attacco il grossetto in campo con il 3-5-2 e Kretas squalificato non in panchina la prima frazione di gioco è stata equilibrata anche se sostanzialmente con maggiori occasioni per l'Arezzo gli Amaranto avevano reclamato anche un calcio di rigore per un presunto fallo di mano su di Gomez il gol dei Griffoni è arrivato nel momento migliore dell'Arezzo quasi inaspantatamente al 43esimo minuto del primo tempo mentre nella ripresa è ripartita all'arrebaggio la squadra del Cavallino e ha trovato il gol a 57esimo con Gucci con stop di petto in area a contrasto con Carannante che non tiene botta e poi il gran tiro che termina in rete per il pareggio il gol partita invece è arrivato su calcio di rigore al 24esimo della ripesa Ferrante abbatte Pattarella al momento del tiro in porta sull'astit di Gucci quindi calcio di rigore batte Castiglie che spiazza Nannetti ed è il 2 a 1 che sarà anche il risultato finale della partita ma per l'occasione abbiamo avvicinato anche l'allenatore della squadra Mister Indiani che fa il punto della gara proprio al termine del match oggi ci stava perché era strafondamentale per noi questa partita e poi per come c'era messa nell'intervallo siamo stati bravi più del solito e quando la squadra è più brava del solito l'entusiasmo di più poi ripeto per l'importanza della gara sei giornate dalla fine sta vittoria vicino che è molto 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 importante nell'intervallo insomma detto che bisognava dare un po' di più siamo stati bravi non era facile non era facile andando a riposo nel svantaggio e ribaltarla bene insomma non era facile quando tutte le palle inattive o insomma tutte le mezze situazioni potevamo far go una volta il portiere una volta una volta lunga e alla prima palla ferma loro mi hanno fatto go ma visto tutti temi sempre imponderabili diciamo mamma mia oggi però poi la lunga la lunga ecco ragazzi l'ho dimostrato per l'ennesima volta e sono bravi da non adattere e la lunga si è vista la differenza di la sigla da noi questa qui e quella giovedì per me erano le vere finali mi disse se ce la facevamo a vincere entrambe eravamo a buon punto una l'abbiamo fatta fino a vedere di vincere anche l'altra è chiaro questa poi in campo neutro ma continuo a ripetere non è stato un vantaggio per noi vedetevi solamente le dimensioni di campo 6 metri più piccole rispetto a dove mi hanno giocato per noi come vincere lo scese per noi è strafondamentale perché è strafondamentale aveva molta molta come si dice paura no ma timore invece poi la lunga ecco perché c'è più soddisfazione che mai perché era un scenario talmente importante talmente fondamentale che se ce la fai a rimediarla dopo essere stato sotto dopo che magari il primo tempo ti diceva mamma mia oggi non ci siamo ce la fai a ripartarla devi entusiasmarti devi gioire che ti sovi mister un pensiero per i tifosi un messaggio se sono rimasti fuori ecco l'entusiasmo sono andato apposta alla rete da loro perché sono venuti anche non potendo vedere la partita che volete ma dire bella ancora più per loro ecco sono tornato a casa più contenti che mai che se non l'hanno potuto a vedere però vedere un gruppo che trova il verso da che la compiace è una morte che potete aiutare in qualche maniera straordinaria rimaniamo in tema di calcio dopo la prestazione del Rezzo parliamo di un'altra iniziativa calcistica ma un po' diversa si sono tenuti ieri le selezioni per la nazionale italiana di calcio a 5 della salute mentale Crazy for football a Firenze hanno partecipato anche due utenti e atleti a reti sentiamo si sono tenute ieri le selezioni toscane per la nazionale italiana di calcio a 5 della salute mentale Crazy for football a Firenze hanno partecipato anche due utenti e atleti a retini questo progetto di sport e inclusione è nato 20 anni fa in collaborazione con i centri di salute mentale la riabilitazione in psichiatria passa anche dallo sport in questo caso il calcio Crazy for football è il nome della nazionale italiana di calcio a 5 che ieri ha selezionato per la prima volta tra gli utenti seguiti dai CSM i migliori calciatori da inserire nell'organico azzurro 30 sono i ragazzi già allenati dal CT Enrico Zacchini che fanno parte della Rosa dell'Italia che attualmente è campione del mondo in carica ieri tra i ragazzi che hanno eseguito il provino c'erano anche due retini Maurizio Roveri e Gianni Sparano seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale di Arezzo e facenti già parte della squadra dell'associazione di promozione sociale Colle del Pionta dopo un primo riscaldamento sono cominciati gli esercizi diretti dai tecnici presenti al termine di questi si sono svolte le consuete partitelle ed infine cappellini attestati e pettorine di ricordo per tutti psichiatri operatori volontari e parenti sono rimasti sugli spalti a fare il tifo insomma una giornata indimenticabile per i 25 ragazzi esaminati che potrà voler dire per qualcuno di loro con vocazione azzurra abbiamo avvicinato il commissario tecnico Enrico Zacchini ragazzi speciali noi ormai è uno schema diciamo che abbiamo imparato che ci piace tantissimo girare l'Italia andare in ogni regione dove le strutture ci preselezionano i ragazzi più forti e vederli al di là del fatto che se poi qualcuno sarà preso per la nazionale o meno sono giornate bellissime in cui cerchiamo di regalare due ore di vero sport agonistico di insegnare qualcosa di lasciarli qualcosa sia per il loro patrimonio calcistico che per il nostro e il loro patrimonio umano se poi troviamo qualcuno veramente forte da poter portare in nazionale ancora meglio cosa ti ha dato questa esperienza? a livello umano tantissimo veramente tantissimo un arricchimento incredibile ormai sono sei anni è diventato parte della mia vita siete campioni del mondo sentivo prima di dirlo ai ragazzi con piuttosto grande orgoglio siamo campioni del mondo in carica siamo la nazionale più forte del mondo io ho una squadra di giocatori veri questo è calcio agonistico vero perché le persone con problemi di salute mentale possono e debbono fare calcio agonistico vero e lo dovrebbero fare nelle squadre dei cosiddetti presunti sani come li chiamiamo noi le squadre federali di tutte le categorie se sono brave l'ultima domanda quante tappe ancora sai da fare prima di trovare i 30 io i 30 già ce l'ho ma vogliamo aumentare la rosa e renderla ancora più forte vorremmo riuscire nel giro di qualche anno ad andare in tutte le regioni però ne abbiamo fatte già parecchie e questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito buona serata con i programmi di Arezzo TV grazie a tutti